Esperienze dirette fatte dagli studenti sia in ambito lavorativo che universitario utilizzando lo strumento dell'apprendistato e la mobilità interregionale ricalcando su scala nazionale il modello del programma europeo Erasmus. Il Partito Democratico Veneto lancia la sua proposta di orientamento attivo per rendere più efficace la scelta del percorso di studi e lavoro attivo dei ragazzi. Con questa proposta vogliamo fare in modo che nelle scuole con le organizzazioni sindacali con le organizzazioni datoriali si possa aggiungere ad un'intesa che determini che se uno studente lo vuole può fare questo tipo di orientamento non più passivo ma attivo. Una proposta quella dell'orientamento attivo che parte dalla situazione attuale che vede le imprese venete alla ricerca di mano d'opera ma spesso si scontrano con la mancanza di profili qualificati, da cui la necessità di migliorare il percorso formativo dei giovani, un tema che il PD vuole discutere in Consiglio regionale. La nostra proposta è dunque quella di modificare, invertire la mentalità dei processi di formazione che devono diventare attivi, dove cioè i ragazzi diventano il protagonista responsabile e consapevole di ciò che sarà il suo ingresso nel mondo del lavoro perché siamo convinti che anche attraverso questa responsabilità passi una miglior possibilità di trovare occupazione e soprattutto la garanzia di trovare un lavoro migliore in termini di retribuzione e di garanzia di tutele. La proposta di orientamento attivo è rivolta anche al mondo universitario per arginare il numero crescente di giovani che non studiano e non lavorano. Anche qui pensiamo a moduli che si realizzano durante il quinquennio dove il ragazzo vede, comincia a respirare l'aria dell'università, verifica se la sua strada è quella giusta o seppure invece va cambiata.